Anche quest'anno, 17esima edizione della fattoria in città, una fattoria che l'anno scorso è iniziato rompendo gli schemi, diventando la fattoria in città diffusa. Quest'anno abbiamo voluto ripetere il format dell'anno scorso e devo dire che effettivamente siamo al terzo giorno ed è di nuovo riuscita. La gente dietro di me dimostra quanto pubblico c'è in città. Da mercoledì sera è iniziata il 31, la città non ha mai smesso di essere animata. In tutte le strade gente, davanti ai negozi, a tutte le ore. Questo ci dice che effettivamente se ci fa qualcosa di bello a Vercelli la gente resta in città e resta davanti ai nostri negozi. Noi della ConfCommercio non potremo mai perdere di vista il nostro obiettivo che è quello di guardare le nostre imprese, portare gente davanti alle nostre vetrine e davanti ai nostri negozi. Ogni anno la fattoria si rinnova, ogni anno ha degli appuntamenti che se la distinguono dall'anno precedente. Quest'anno abbiamo iniziato a mercoledì mattina con un convegno importante sulla sostenibilità e domani sera, che è sabato, l'ospite Iginio Massari in Piazza Cavour, il maestro dei pasticceri, che si esibirà con i nostri due chef di due nostri pubblici esercizi che prepareranno una ricetta dolce e una salata. Quindi l'invito è, vi aspettiamo in Piazza Cavour numerosi domani sera, buona fattoria a tutti, buon divertimento per grandi e piccini, perché anche Parco Kennedy, dove quest'anno peraltro abbiamo i dinosauri, è la dimostrazione. Quindi cercano i giochi, vogliono divertirsi e Parco Kennedy dà la possibilità. Grazie. 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 Grazie.